Presidente, avete realizzato un photowalk, di che cosa si tratta? Ma guarda, abbiamo pensato di dare alla città, proprio nel momento clou, quindi nel momento inaugurale del Natale, il Natale più, un potere di essere visualizzato un po' da tutti, tramite i social, tramite i blogger, quindi sappiamo che oggi abbiamo fatto un po' da tutti, vanno molto, sappiamo che i photowalk altrettanto vanno molto, quindi saranno circa 12 blogger più due communities, gli Igers di Pesorubino e gli Allers, che saranno presenti domenica alle 3, partendo dal presepe di San Marco, visiteranno San Pietro in Valle, visiteranno il nostro Teatro della Fortuna, fino ad assistere al momento inaugurale, per poi fare un bel giro lungo il corso della città che è stato appena illuminato. Questo servirà per far parlare proprio nei loro social, nei loro siti, quello che è stato il momento di inaugurazione della città di Fano e quello che sarà il Natale fanese. Ci sarà un contest e quindi i tre migliori contenuti, tutti possono partecipare ovviamente a questo photowalk, basta registrarsi, i tre migliori contenuti con l'hashtag Fano Christmas Light verrà praticamente premiato da noi con dei buoni in prodotti tecnologici, quindi potete partecipare iscrivendovi, più saremo, più ci divertiremo al photowalk, ma soprattutto in tanti riusciranno a far parlare della città di Fano. Per informazioni dove è possibile rivolgersi? Allora, per informazioni le prenotazioni sono via WhatsApp, a un numero di telefono, basta andare sulla pagina Facebook del photowalk, Fano Christmas Light si chiama e lì praticamente si possono trovare tutte le informazioni. Per questo photowalk devo ringraziare innanzitutto l'assessorato al turismo, col quale abbiamo collaborato per cercare di crearlo insieme, visto l'esperienza del photowalk passato estivo. Poi ovviamente le ragazze di destinazione Fano che hanno costruito insieme a Marche Wow e le Marche del Cuore, che sono dei progetti social proprio dentro questi ambienti, per aver realizzato veramente una bella giornata che sarà molto interessante anche per noi.